possiamo chiedere a qualcuno di voi se questa cosa delle nuove invasioni che ci sono nei terreni delle napoli se l'avete sentita questa cosa siamo qua di nuovo per questo motivo voi non l'avete sentita no possiamo chiedere una porcata da due anni una porcata che state facendo però ci possiamo siamo onesti noi perché se erano in un altro posto appellate nel culo perché in due anni penso la storia si dovrebbe a noi mi dispiace infatti essere ancora qui però le posso dire sa perché siamo di nuovo qua purtroppo sa perché siamo di nuovo qui perché di nuovo ci sono le mucche entrate nei loro terreni è perciò che siamo di nuovo qua purtroppo